Abbiamo messo in vendita la nostra programmazione estiva da Pescara, quindi perfino appunto a ottobre 2016 e si può già andare sul nostro sito, acquistare biglietto verso sette importanti destinazioni che saranno collegate proprio da Pescara. Il nostro obiettivo quest'anno è di trasportare mezzo milione di passeggeri da Epper Pescara che riteniamo daranno un importante contributo al turismo e alla mobilità in Abruzzo. Quali sono le rotte che vi stanno dando più soddisfazione da Pescara? Diciamo che siamo soddisfatti un po' da tutte le rotte. Sicuramente sono delle rotte importanti, abbiamo Parigi, Bruxelles, Barcellona, la Germania con Dusseldorf e Francoforte e Milano-Bergamo. Quindi sono tutte delle rotte importanti, ripeto, non soltanto per il turismo ma anche per la mobilità degli abruzzesi. Tra le novità per il prossimo anno c'è un nuovo sito e una nuova applicazione per smartphone di Ryanair. Abbiamo lanciato questo mese un nuovo sito web del tutto rinnovato, molto più user-friendly, con la possibilità di registrarsi a MyRyanair e avere tante opzioni in più per rendere l'esperienza di viaggio, come dire, già l'abbiamo stata migliorata negli ultimi due anni dal nostro programma Always Getting Better, quindi introducendo il post assegnato, il secondo bagaglio gratuito e tante altre novità. Adesso stiamo lavorando per rendere anche l'esperienza digitale sempre migliore. Quindi nuovo sito, una nuova app molto veloce, si può stampare, si può direttamente fare il check-in sul cellulare, quindi la carta d'imbarco portarla direttamente sullo smartphone. Grazie mille, grazie mille.